Pronto? Lavanderia La Sorgente. Lavanderia La Sorgente effettua ritiro e consegne a domicilio, lavaggio capimpelle, pellicce, abiti da sposa, barbur, cambio stagione con deposito e pulizia a domicilio e di tappezzeria. Il presidente della regione campania Vincenzo De Luca, presente nella giornata di ieri lunedì 11 aprile alla stazione marittima di Napoli in occasione della giornata del mare e della cultura marina, è intervenuto sul tema dei fondi nazionali per la sanità. L'attuale sistema di ripartizione penalizza infatti la campania, che si colloca agli ultimi posti per valore pro capite rispetto ad altre regioni della penisola. Per questo il governatore ha fatto sapere che è intenzionato a portare avanti la battaglia affinché vengano assicurate le stesse risorse a tutti i cittadini italiani. Vedremo chi si stanca prima, noi godiamo di ottima salute, a Dio piacendo, quindi la nostra battaglia continua e ci auguriamo ovviamente che le forze politiche nazionali, tutte, anziché girare la testa dall'altra parte, comincino a fare un'operazione verità. La proposta della campania è molto semplice, le stesse risorse a tutti i cittadini italiani dal Piemonte alla Sicilia. Poi se c'è qualche regione che ha bisogno di un aiuto in più perché ha più popolazione anziana, bene, costituiamo un fondo ad hoc. Ma questa vergogna di questo furto che dura ormai da più di dieci anni a danno ai cittadini campani deve finire, assolutamente.